Il via vai da ambulanze al pronto soccorso è continuo, arrivano, scaricano il paziente, a volte si soffermano per sanificare la vettura e poi ripartono. Con il picco di influenza ancora molto alto, gli accessi all'ospedale non si arrestano. E allora siamo andati proprio davanti al pronto soccorso di Pistoia per raccogliere le valutazioni delle persone. Io non posso lamentarmi perché ieri sera ci hanno dato notizie, stamattina Irem, ora vuoi a vedere. La gente va, entra dentro, poi io ho pochi aspetti, ma ho avuto problemi con mia mamma, comunque vanno avanti. È andata bene, c'è un personale accomodante, sì sì, ci sono le persone che ci stanno dietro, sì sì, non ci si può lamentare. Purtroppo a volte ci sono viste le influenze, quelle non le puoi controllare, però il personale è preparato e attento, tanto attento. Spero di non esserci spesso, quindi via. Però vedo la gente, va, è la che la chiamano, insomma, non si lamenta nessuno. Tra i problemi più diffusi, quello ormai storico dell'assenza di segnale telefonico in alcune aree del pronto soccorso. Un disagio specialmente per chi fuori attende notizie sulla salute del proprio caro. Hai riuscito a comunicare con l'esterno? Sì sì sì, perfetto. Ma sei connesso al wifi? No, 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 c'ho internet mio, non l'ho neanche provato. Basta allacciarsi al wifi, c'è il wifi dentro, quindi basta allacciarsi. Magari forse perché è anziano è un po' più complicato. Ci sono le persone dentro, lo chiede, va chiesto, ci sono gli operatori e li aiutano. Come telefono non funziona? Non funzionano lì, tanto si sa che noi andiamo dentro, a volte non ci funziona neanche a noi. Ok, 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 Grazie.